De Vernoy è un'azienda francese che esiste dal 1927, è proprietaria di 150 boutique in Francia e 200 nel mondo, quindi il marchio De Vernoy è molto conosciuto in Europa e in Italia invece non è molto distribuito, almeno fino ad oggi non è stato molto distribuito. L'azienda è di proprietà della stessa famiglia da tre generazioni, è un'azienda molto solida che fa un prodotto che ha un rapporto qualità-prezzo straordinario e che pensiamo che possa avere un bellissimo riscontro anche nel difficilissimo mercato italiano, che veramente ha tutto, però è tutto made in France, tutto viene prodotto all'interno, attraverso laboratori, ma tutti in Francia. È una bellissima qualità, fa un prodotto anche elegante, medio elegante e giorno.